Ciao ragazzi, bene allora oggi, intanto sempre lui, cani da guardia come tener lontani, anzi no, come liberarsi dai ladri per sempre, ho scritto talmente tanti libri che non mi ricordo neanche più il titolo. Allora oggi vi volevo parlare di cosa tratta il capitolo 3, come evitare che entri in casa nostra, ovvero il ladro. Allora ieri vi ho parlato perché è meglio lasciarlo fuori, prima vi avevo spiegato un po' chi è il ladro e come agisce e oggi vi voglio dire come possiamo evitare che entri in casa nostra. Guardate ci sono delle persone, delle famiglie che vivono in case singole con giardino che sembrano specializzate a far tutto il possibile immaginabile affinché il ladro entri in casa loro. Ci hanno una bella casa in vista, loro si rincuorano sul fatto che hanno vicini di casa, che passa la strada, che c'è traffico perché secondo loro se è una strada trafficata davanti a loro i ladri non entro, basta che entrano da dietro eccetera e poi magari hanno quei bei finestroni dove si vede tutto bene dentro, dove chiunque passa la prima cosa che gli viene in mente dicevo che bello che sarebbe entrare in quella casa a vedere se c'è qualcosa di interessante. Quindi al di là del fatto che io seleziono e vendo cani da guardia e al di là del fatto che chi mette i miei cani da guardia all'interno di case singole con giardino abbiamo il 100% di risultati sull'antintrusione, cioè non sono mai entrati una volta i ladri laggiù dove c'è stata una copia di miei cani da guardia, di là di tante puttanate che leggo sui social, mai entrati. Ma poi ci sono un sacco di accorgimenti che si possono adottare, ve ne dico uno che credo anche di averne parlato in questo libro, ma quasi tutti quando hanno paura dei ladri cosa fanno? Illuminano tutto, illuminano tutta la casa perché gli sembra che il ladro abbia più difficoltà se vede tutto illuminato perché se lo immaginano come diabolico che vestito di nero si reaggira meglio al buio. Invece è tutto al contrario, è proprio quando specialmente se avete i cani, è proprio stare al buio che gli create dei problemi al ladro perché il ladro sente i cani ad abbaiare, non li vede, non sa quanti ce ne sono, non sa che movimento fanno e quindi sa che se entra lì dentro sarà obbligato a lui ad utilizzare qualche luce e utilizzandola si metterà in evidenza. Quindi se mai le luci non sono come vedo un sacco di persone che illuminano tutta la casa come sistema anti-intrusione così i ladri da lontano si possono studiare tutti i vari spostamenti che fa la famiglia da lontano con un piccolo canocchiale, vedere bene tutto, studiare il colpo e entrare quando vogliono. Se mai è al contrario, ci vogliono le luci fuori oppure non ci vogliono luci con luci pronte ad accendersi che buttino verso l'esterno se sentite i cani ad abbaiare. Ovvio che se avete solo l'antifurto, per voi sono problemi più grandi perché solo sarete allarmati quando il ladro vi è già entrato. E quando il ladro vi è già entrato, ragazzi, sono poche le probabilità che cambi idea e torni indietro nel momento in cui sente a suonare l'antifurto perché sa benissimo che ha mille possibilità di farcela lo stesso e anzi se voi siete allarmati magari uscite, loro ve lo fanno suonare apposta, come siete usciti vi prendono di sovrassalto e non hanno neanche bisogno di sforzare i saramenti, di farsi tanti problemi perché siete poi voi a suon di schiapponi che li portate in casa, gli aprite la cassaforte e gli date cosa di serve. Quindi prima di parlarvi dei cani da guardia che in questo libro ci sono alcuni capitoli solo dedicati ai cani da guardia, in questo libro che praticamente vi scaricate a 0,99 sul vostro cellulare da Amazon o lo pagate 9,90 questa versione cartacea. Ecco ci sono questi tre capitoli che parlano proprio solo del ladro, come agisce, perché bisogna tenerlo lontano, come evitare che entri eccetera. E poi da domani il quarto iniziamo a parlare a chi servono i cani da guardia perché io mi sono stancato di avere gente che vivono in posti dove non devono adottare i cani da guardia solo perché gli piace la razza che allevo, solo perché gli piacciono i filmati, solo perché gli piacciono determinate tipologie di cani che vogliono a tutti i costi portarseli in casa. Chi non ha una casa singola con giardino, i miei cani da guardia non li può tenere, ma non solo, chi ne vuole solo tenere uno non lo può tenere, bisogna sempre che i cani stiano in coppia, anche non tutti e due da guardia ma mai da soli. Quindi tutti questi concetti che cerco di ribadirvi, mi seguite nelle direte ma alla fine cioè vi assorbite il massimo un 10% cosa vi dico, perché continuo ad avere sempre gli stessi errori, vedete i filmati ma poi probabilmente ve lo dimenticate, ecco tutti questi concetti li ho messi in questo libro che con meno di 10 euro se lo volete cartacee o meno di un euro se volete scaricare almeno vi fissate questi concetti nella vostra testolina e incominciate a finire di fare puttanati con i cani da guardia. Questo era proprio il filmato che volevo fare su questo che è il terzo diciamo capitolo e l'ultimo che vi parlo del discorso ladro, poi inizieremo con tutta una serie di argomenti cinofili inerenti al cane a guardia, ma non potete capire che cane vi può servire, come vi dovete muovere con i cani da guardia se non capite chi è il ladro, se continuate a dare retta a tutto ciò che sentite a dire sui social, leggete nei commenti, trovate sui blog eccetera, perché per capire chi è il ladro bisogna averlo studiato, bisogna averlo lavorato per tanti anni nella sicurezza abitativa anticrimine, capire lui come agisce, ecco che allora ci sono cose che non lo direste mai più, dei cani da guardia parlo, che sono molto efficaci contro i ladri e cose che sono quelle che la maggior parte di cinofili credono che non servono a nulla per tenere lontano il ladro anche se avete un cane che si attacca magari a una manica e non si stacca per una settimana, ok? Chiaro? Quindi bene, mandatevi a prendere sto libro e di lì inizieremo poi a capirci e capirete anche meglio cosa vi voglio dire nei filmati quando ve li faccio e cosa vi dico nelle dirette quando le programmo. Bene, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e ricordatevi fra l'altro che domani sera finisce la mia promozione sui videocorsi. I videocorsi sono molto utili perché ciò che trovate nei videocorsi non l'avete mai sentito a dire da me nei filmati e né tanto meno nelle dirette perché quelli sono concetti che io vi sviluppo che vi fanno capire cos'è la cinofilia. Nei filmati e nelle dirette io vi do un'infarinata per capirvi che cosa avreste bisogno di imparare, lì invece ve lo insegno, è una cosa ben diversa. In questa promozione che trovate sulle mie pagine che finisce domani sera trovate anche tre ore inserite nel prezzo di consulenza diretta con me, proprio come siamo adesso. Sul cellulare ci mettiamo in videochiamate e tutto cosa non avete capito di quel videocorso che avete acquistato io ve lo posso spiegare direttamente, siamo solo noi, cioè scusate solo io e voi e quindi è impossibile che possiate poi ancora nutrire dei dubbi su cosa dovete fare col vostro canale guardia. Bene, vi saluto e grazie ancora, a presto!